Come stai venendo la partita? È congelata! Congelata! Quanto siamo? 1 a 1 Dovamente che tutti si seguono attentamente la partita perché nessuno che ha sbagliato il risultato E beh, ci mancherebbe altro Solo io ho sbagliato il risultato Però tu ci puoi dire quanto finirà? No, l'altra volta ho sbagliato è meglio che non faccio nessun tipo di pronostico Occhi non lo sa, chissà quanto si mangia Adesso non lo sappiamo Va indifferita l'intervista Mi dispiace